Gianni Colacione per LibriTV, oggi 29 marzo, 2015, siamo a Ostia, Piazza Ancomarzio e siamo in compagnia di Alessandro Capriccioli, segretario dell'Associazione Radicali Roma. Che cosa sta succedendo? Qui ci sta un presidio dei radicali con bandiere, si raccolgono anche delle firme? Sì, c'è un presidio dei radicali con bandiere che fa seguito a tutta la nostra attività anche degli anni precedenti su Ostia, sulla situazione di illegalità del cosiddetto lungomuro, ma non solo del lungomuro, soprattutto delle irregolarità e degli abusi commessi negli stabilimenti che impediscono l'accesso al mare sia durante la stagione balneare sia al di fuori della stagione balneare, abbiamo anche la clacca, che di fatto impediscono ai cittadini di Ostia e ai cittadini di Roma, perché non dimentichiamo che Ostia è il mare di Roma e che è una delle pochissime capitali mondiali che ha uno sbocco così importante sul mare e di usufruire del mare. Oggi l'iniziativa è raccolta firme per una petizione al Parlamento europeo per l'applicazione della direttiva Bolkenstein che prevede già da qualche anno la messa a gara con bando di pubblica evidenza delle concessioni, in questo caso tirata di concessioni balneari che come sappiamo sono sempre assegnate agli stessi operatori, che sono poi gli operatori che hanno commesso sugli stabilimenti che gestiscono gli abusi che tutti conosciamo e che i cittadini di Roma e di Ostia conoscono. Diciamo che questo è un fronte dell'attività dell'associazione per Ostia perché poi è un punto d'attacco di questa questione, laddove gli altri punti d'attacco sono la revoca delle concessioni agli operatori balneari che hanno commesso degli abusi, violando le norme che le concessioni stesse subordinano rispetto alla possibilità che questa concessione sussista, anche in virtù del fatto che Ostia è in questo momento un po' al centro dell'attenzione, sia non solo per questa illegalità ma proprio a livello politico con tutto quello che sappiamo, con la possibilità di andare a elezioni, col PD che sta cercando di tirare le fila su Ostia, insomma siamo un po' nel centro dell'attualità politica romana. Quindi si prevede un'estate calda per i radicali Roma-Ostia? Si prevede un'estate calda per i radicali Roma-Ostia e soprattutto perché i radicali sono quelli che da sempre denunciano queste illegalità. La battaglia sul lungomuro è una battaglia veramente di tanti anni che ha avuto un piccolo successo con l'apertura dei due varchi vicino al pontile ma il problema è un problema di accessibilità al mare che dovrebbe essere garantita come è garantita in tutta Italia tutto l'anno e in tutte le ore del giorno e della notte. Il mare dovrebbe essere un patrimonio di tutti i cittadini perché ricordiamo che chiudere la battiglia, chiudere il mare, chiudere la spiaggia è chiudere la strada, si tratta di demanio. Pare che qua questo principio, anzi pare, sicuramente questo principio viene ignorato e quindi al di là dei varchi che a questo punto cominciano a diventare anche un alibi e un contentino che l'amministrazione potrebbe offrire ai cittadini, qua si tratta di assicurare uno che il mare sia accessibile a tutti. Poi c'è anche un problema molto importante relativo alla disabilità, qua ci sono stabilimenti interi nei quali i disabili non possono accedere perché non sono attrezzati come dovrebbero essere attrezzati ma anche l'accessibilità alla spiaggia senza pagare da parte di tutti i cittadini. Oggi chi vive la realtà di Ostia ci racconta una cosa che è facilmente riscontrabile, cioè che una famiglia di quattro persone con due bambini per farsi una giornata al mare a Ostia debba spendere delle cifre consistenti ed è un esempio unico nel panorama italiano. Se voi avete visto le spiagge di Rimini, di Forte dei Marmi, sono posti in cui la spiaggia non solo si vede e a Ostia non si vede neanche che c'è il mare, ma una spiaggia accessibile senza pagare per passeggiare sulla spiaggia di giorno e di notte per fare il bagno, che è una cosa che oggi a Ostia non è possibile, stiamo parlando del mare di Roma, quindi di un sbocco sul mare importantissimo rispetto al quale è necessario che questa situazione di illegalità finalmente cessi. Grazie da Alessandro Capriccioni.